Oggi introduciamo Kobo Aura che esce a settembre a 149 euro. Kobo Aura è il primo reader con borderless edge to edge, quindi come i tablet, design completamente nuovo e riprendiamo il nostro design molto pulito che abbiamo su altri prodotti. È molto più leggero, molto più snello di tutti gli altri reader che abbiamo messo ad oggi sul mercato. Schermo E-Ink Pearl da 6 pollici e accesso direttamente con Wi-Fi a tutto il catalogo di più di 3,5 milioni di titoli. Abbiamo anche una nuova funzione che si chiama Oltre il libro in cui possiamo sfruttare di contenuti addizionali di cui stiamo leggendo per avere informazioni su una persona, una città, un paese, un evento direttamente con il Wi-Fi integrato che va a cercare sulla web diversi articoli che sono stati scritti su quel tipo di fatto. Viene a incrementare la gamma di cui avevamo Laura HD che era un formato più grande di 6,8 pollici con schermo HD e quindi abbiamo una gamma adesso più ampia. quel prodotto ha ovviamente anche qua la luce integrata che si può regolare e abbiamo due prodotti completamente complementari, uno più per andare in giro da 6 pollici e uno magari più per un uso domestico di 6,8 pollici con schermo HD. Qui ci sono la possibilità della 360 partenza. Qui si è vero?